Grazie a tutti. a piacere che la discussione era davanti però nel quattro della variazione della previsione non ritrovesse anche un'altra cosa non come un'unità di solito ma non tanto per tutta parte uno è stato previsionato un bilancio con la scelta di un paese che passa su futuro su che cosa il punto è investito su che cosa dobbiamo dare conto per le nostre scelte per tutti i cittadini che qui si faccia quindi entrare diciamo da un'altra commissione di capitolo della documentazione sarebbe un fortuna perché io l'ho fatto e la tengo per voi questa notizia anche di entrare con me e poi diciamo di seguire i capitoli che ci vedono non c'è neanche più ma il tuo padre se lo duro l'assessore del viceversivo locale con iniziativa non c'ha parte quindi la sua natura non c'è niente più e si deve andare ma no potete buttare il mio presidente non c'è niente più la scelta del mare se lo vede lo scelta del dolore non ti c'è niente più ma mi sono riuscito a quello che è una variazione a un agio di previsione e io mi sto augurando che questa discussione sia in confronto perché la scelta nostra deve fare questo domanda allora ecco solo gli arrivi un piccolo